Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora proseguiamo in questa seconda istruzione, lezione, questo nostro secondo incontro di teologia spirituale. Il tema che ho voluto dare a questo secondo incontro, che continua la prima tappa che abbiamo fatto la scorsa settimana, è cercare di spiegare che la preghiera dell'uomo è vera, giusta, buona, soltanto se mediata dall'unico mediatore tra Dio e l'uomo, Gesù Cristo, che è vero Dio e che è vero uomo. Il tema generale che stiamo affrontando è la massima di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che dice chi prega si salva, chi non prega si danna. Però, ecco, la tesi che stiamo sostenendo è che non tutta la preghiera è preghiera, non tutto il pregare dell'uomo è preghiera. Per noi battezzati, pregare non è più l'atto della creatura che riconosce il suo creatore. Non è più l'atto di prostrazione dello schiavo dinanzi al suo padrone. Per noi discepoli di Gesù e battezzati, in quanto discepoli di Gesù, o anche in quanto battezzati siamo discepoli di Gesù, pregare è l'atto con cui, come amici, ci intratteniamo con Dio e Dio si intrattiene con noi, ammettendoci ed immettendoci, dopo averci invitato ovviamente a stare in comunione con Lui, però in un nuovo status. Quale status? Quello di figli. Pertanto, la vocazione che l'uomo ha a pregare è orientata a raggiungere questo fine primario a cui Dio ci ha destinato, donarci a Lui con tutto il nostro essere nella stessa intensità con cui Lui ha donato a noi tutto il suo essere. E' questa la nostra vocazione più profonda, un'opera che è continuamente compiuta dallo Spirito Santo e viene compiuta proprio attraverso l'illuminazione della nostra intelligenza, il sostegno della nostra volontà e introducendoci nel mistero di quella che è la figliolanza divina che abbiamo ricevuto col battesimo in Gesù Cristo. E questo diciamo che è già un primo elemento che dovrebbe farci considerare con una maggiore attenzione la dimensione della preghiera, perché è la preghiera di fatto il modo che ci è stato concesso di immergersi nelle profondità di Dio. Ecco perché chi prega si salva, chi non prega non si salva, perché chi prega si immerge nelle profondità di Dio e per un dono misterioso del Signore immergersi nelle sue profondità è anche l'inizio per svelare all'anima, all'intelligenza, allo Spirito il mistero stesso di Dio. E' Dio che si comunica e quindi si svela all'anima e lo fai immergendola nella sua profondità, diciamo nella sua intimità divina. Tutto questo fa la preghiera. Pertanto dopo che abbiamo risposto alla domanda del perché l'uomo prega, ora, ecco, poniamoci un'altra domanda. Ma pregare è per tutti gli uomini uguale? Ora, come già abbiamo detto, è solo il battesimo, cioè l'essere diventati figli di Dio nel suo figlio Gesù, che conferisce alla preghiera l'efficacia della verità, della giustizia e della bontà. Fuori dalla grazia battesimale non si ha nessuna garanzia che la preghiera è un atto vero, buono, giusto. Anzi, possiamo tranquillamente dire che senza il battesimo la preghiera semplicemente non è preghiera perché l'unica mediazione tra Dio e l'uomo avviene ed è avvenuta solo in Gesù Cristo. Pertanto una preghiera che non sia in Gesù, con Gesù, per Gesù non potrà mai arrivare a Dio. Ora, l'obiezione che in questa circostanza si potrebbe ricevere è quella che questo principio non terrebbe conto del fatto che non sono solo i cristiani a pregare ma che, come abbiamo già detto, lo fanno tutti gli uomini e ciascuno lo fa secondo il proprio credo e le proprie convinzioni, la propria religione e, diciamo, la cultura in cui è stato formato fin da piccoli. Quindi, dove finiscono tutte queste preghiere? Ora, il fatto che la preghiera sia un atto comune a tutti gli uomini sia un'espressione di tutte le religioni non ci parla che essa sia proprio per questo vera, buona e giusta. Semmai ci dice che l'uomo, come abbiamo detto la scorsa volta è per natura, per atto creativo, orientato a Dio. Ecco perché ogni uomo di ogni condizione, situazione, eccetera sente profonda l'esigenza a pregare una esigenza però che non mantiene quello che promette e questo è ovvio che avvenga perché abbiamo detto che il motivo è ormai l'incapacità che l'uomo ha, a motivo del peccato, di relazionarsi con Dio. E allora questa constatazione ci proietta ad altre domande e ci racconta altre prospettive. Ora, il fatto che la preghiera sia esperienza comune di ogni uomo ci narra appunto che tutti gli uomini devono affrontare le stesse sfide tutti vivono le speranze che sono suscitate dal nascere e tutti sono in qualche modo terrorizzati dalla sofferenza e dalla morte. però c'è una differenza radicale tra la preghiera del cristiano e la preghiera di chi cristiano non è e questa differenza non è la preghiera in sé ma è il destinatario della preghiera. Il fatto che ogni uomo in fondo prega ci dice che tutti gli uomini in fondo hanno la stessa esigenza ma l'efficacia della preghiera ci narra che diverso è il destinatario a cui la preghiera è rivolta e che ovviamente non è l'unico destinatario lo stesso destinatario per tutti. Esiste il Dio vero ma esiste anche il Dio che non è vero sono gli dèi pagani gli dèi che nascono dalla esigenza naturale dell'uomo che è portato a Dio e che gli ha fatto perdere la dimensione della verità a motivo del peccato originale per cui l'uomo non potendo più arrivare a Dio ma sentendo una forte nostalgia del suo creatore si inventa il creatore sente la necessità ha la necessità di riferirsi a un creatore e come ci viene rivelato anche dalla scrittura spesso questa deficienza causata dal peccato nella intelligenza dell'uomo viene utilizzata dal demonio per presentarsi lui come Dio sicché molte preghiere diventano preghiere fatte al demonio ora questa differenza è una differenza incolmabile nei pagani il pregare riflette e codifica puramente l'essenza superiore dell'uomo gli dèi pagani sono immaginati dall'uomo rispondono a questa capacità che l'uomo ha di Dio però sono dei che non esistono addirittura ecco vi ho detto che la Sacra Scrittura parla di questi dei proprio come demoni invece i cristiani quando pregano si rivolgono direttamente a Dio cioè a colui che è il creatore e che è il redentore quindi l'unico vero Dio pertanto il pregare del cristiano non può mai essere messo a confronto con il pregare di chi cristiano non è non stiamo parlando della stessa cosa anche se c'è una similitudine per spiegarvi questo che vi sto dicendo mi piace leggervi ecco un piccolo brano di Sant'Agostino che è tratto dall'opera che lui fa sulla esposizione del Salmo 94 cosa cosa ci dice Sant'Agostino il primo motivo del nostro giubilo e della nostra lode è perché un grande Dio è il Signore è perché Egli è un re più grande che non tutti gli dei concediamo pure che esistano degli dei al di sopra dei quali si leva nella sua grandezza il nostro Dio se ci sono non ci sono certo per noi come dice l'Apostolo sebbene ci siano dei cosiddetti dei sia in cielo sia sulla terra di fatti ci sono molti dei e molti signori per noi tuttavia c'è un solo Dio da cui provengono tutte le cose e noi esistiamo per Lui come uno solo è il Signore Gesù Cristo ad opera del quale esiste ogni cosa e nel quale siamo tutti noi se dunque non esistono per noi per chi esistono? allora ascolta un altro Salmo tutte le divinità dei gentili sono demoni il nostro Signore ha invece creato i cieli lo Spirito Santo per bocca del profeta non poteva usare una formula più splendida e più coincisa per descriverti il tuo Dio e Signore era poca cosa infatti segnalarti che Dio è un essere più terribile che non tutti i demoni che c'è di straordinario nell'essere Dio superiore a tutti i demoni? di fatti tutte le divinità dei gentili sono demoni ma il tuo Dio dov'è? il Signore creò i cieli il tuo Signore ha creato quel luogo dove i demoni non possono risiedere il cielo da cui i demoni furono scacciati più sublimi che non i demoni sono i cieli ma il tuo Signore è più sublime dei cieli di cui è stato il Creatore quanto dunque sarà più eccelso di tutte le divinità pagane che sono demoni quel Dio che è più alto dei cieli da cui decaddero gli angeli divenendo demoni eppure tutte le genti furono per diverso tempo in potere dei demoni in onore dei demoni si costruirono templi si eressero altari si deputarono sacerdoti si offrirono sacrifici accanto a loro si collocarono degli invasati che fungessero davati tutti questi atti di culto tributarono i pagani al demonio mentre in verità essi non competono se non all'unico grande Dio i pagani eressero templi ai demoni come a templi Dio i pagani istituirono dei sacerdoti per demoni come a sacerdoti Dio i pagani offrirono sacrifici ai demoni come se ne offrono a Dio questo è accaduto perché i demoni volevano apparire dei ma non si sarebbero arrogati tale forme di religione al fine di ingannare la gente se non avessero saputo che esse erano effettivamente dovute al vero Dio e infatti cosa straordinaria che una divinità falsa si arroghi ciò che è realmente dovuto al vero Dio egli è il vero Dio perché non è stato fatto Dio da nessuno pertanto vedete nella preghiera cristiana l'uomo si rivolge al tu di Dio un tu che non è prodotto dai propri pensieri dai propri desideri dai pensieri e dai desideri dell'uomo ma è un essere supremo in se stesso la preghiera dei non cristiani essendo un culto non rivolto all'unico e vero Dio e l'unico e vero Dio è il Dio rivelato da Gesù Cristo che è Dio stesso è una preghiera rivolta ai demoni non è una preghiera rivolta a Dio per questo che possiamo dire che la preghiera dei pagani non è una preghiera vera non è una preghiera buona non è una preghiera giusta non è vera perché la preghiera si deve solo a Dio non è buona e nemmeno giusta perché pregare i demoni significa non riconoscere Dio come Dio allora la preghiera dei pagani secondo la Sacra Scrittura è in abominio al Signore in quanto Dio gradisce solo la preghiera di colui che egli ha stabilito come unico mediatore tra lui e gli uomini cioè Gesù Cristo d'altra parte come pensare che le altre religioni che ignorano il vero Dio possano ottenere da lui qualche cosa San Paolo ci afferma che i falsi dei sono degli angeli decaduti dei demoni ecco perché nella prima lettera che scriva i Corinzi al capitolo 10 versetto 20-21 leggiamo quel che sacrificano i pagani lo immolano ai demoni e non a Dio non voglio che voi abbiate comunione coi demoni non potete bere il calice del Signore ed il calice dei demoni non potete partecipare alla mensa del Signore e a quella dei demoni eccolo Paolo dunque fa divieto assoluto categorico di unirsi ai culti pagani un divieto che non è mai stato superato anzi non può essere superato e qua comprendete nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 6 versetti 14 16 continua dice non unitevi ad un gioco sconveniente con gli infedeli perché che cosa ha che fare la giustizia con l'iniquità e che comunanza vi è tra la luce e le tenebre che accordo può esserci tra Cristo e Baal che rapporto c'è tra il fedele e l'infedele come mettere insieme il Tempio di Dio e gli idoli ecco fin qui allora per quanto riguarda la preghiera dei pagani mi sembra che il discorso sia chiaro tuttavia potrebbe anche essere messo in campo la provocazione dicendo ma noi abbiamo anche delle religioni che sono monoteiste come appunto è monoteista quella cristiana ed è monoteista l'ebraica e l'islamica e allora è lecito domandarsi la preghiera ebraica la preghiera islamica e la preghiera cristiana quindi siamo passati a un altro livello può essere considerata una preghiera dello stesso valore visto che tutte e tre le religioni si riconoscono discendenti dall'unico patriarca Bramo a cui Dio si è rivelato ecco un'attualissima provocazione e allora dobbiamo dobbiamo fare molta attenzione e capire bene no? Insomma è possibile sostenere che i cristiani possono pregare con gli ebrei o ritenere che gli ebrei adorino lo stesso Dio dei cristiani così come ci viene riferito da diverse parti ovviamente è negativo è vero che possiamo adottare con gli ebrei i salmi altre preghiere dell'antico testamento a livello proprio letterario ma noi li comprendiamo e li recitiamo avendo come orizzonte la fede nel Dio Trinità Trinità avendo come orizzonte l'incarnazione del Figlio l'effusione dello Spirito Santo nei cuori di coloro che credono in Lui quindi cosa c'è in comune con gli ebrei? Di fatto nulla una lettera che senza lo Spirito è morta quindi l'Antico Testamento senza l'irruzione dello Spirito Santo che vivifica e dà vita è una lettera morta è come quelle ossa inaridite nella visione di Ezechiele se possiamo dire no? Ed è possibile ad esempio pregare con i musulmani e credere che in fondo il Dio islamico è lo stesso Dio dei cristiani anche qui è negativo non possiamo pregare come o con i musulmani perché la loro fede in Dio nel loro Dio che non è il nostro Dio e la sua autorivelazione non è soltanto diversa dalla fede cristiana in Dio ma nega addirittura la formula cristiana gli islamici sostengono che Dio non abbia un figlio che come verbo eterno del Padre è una persona divina e che con il Padre lo Spirito Santo è l'unico Dio Trinità non pensate che sia una questione soltanto di parole perché la conseguenza è che i fedeli dell'Islam non sono di fatto figli adottivi di Dio per mezzo della grazia di Cristo sono soltanto sudditi di un creatore possono pregare un Dio che è totalmente lontano da loro inaccessibile pienamente trascendente e possono soltanto da questo il termine Islam sottomettersi a una volontà di questo Dio lontanissimo e puramente trascendente proprio sottomettersi proprio come a un destino ignoto il pregare dell'Islam esprime una cieca subordinazione ad una volontà dominante di un Dio ignoto irraggiungibile totalmente separato dall'uomo quindi la preghiera dell'Islam è di fatto la preghiera del sottomesso e quindi la preghiera dello schiavo mentre la preghiera del cristiano è atta chiedere che sia fatta la volontà di Dio ma una volontà che si compie nella massima liberalità e libertà liberalità di Dio libertà dell'uomo pertanto una preghiera che non renderà mai schiavi sottomessi ma farà restare veramente nella libertà dei figli di Dio nella in ciò che Gesù stesso ci ha detto se il figlio vi rende liberi vi farà liberi davvero che gli ebrei e gli islamici credano nel Dio unico rivelatosi a Mosè anche se in questi ultimi decenni è andato molto in voga ed è stato captato da più parti però dobbiamo ricordarci che questo principio del Dio unico rivelatosi a Mosè non è una dottrina cattolica in realtà è un'invenzione un'invenzione che fu lanciata all'inizio del secolo XIX dal celebre apostata Jacinto Loison che era già dominicano poi diventò carmelitano scalzo e infine si spretò questo dittato è un errore che poi fu subito fu appropriato se vogliamo dire dai neomodernisti e fu rilanciato gli stessi modernisti che furono condannati infallibilmente da San Pio X nella Paschendi e come diceva San Pio X condannati in quanto pervertono l'eterna nozione di verità vedete questo ci può aiutare a capire che non è un caso se oggi ci troviamo a combattere delle a combattere purtroppo a subire no perché è difficile trovare chi combatte no perché sembra che non ci siano neanche armi ormai per combattere ed è soltanto una strage no e quindi soltanto siamo costretti soltanto a subire no tante esternazioni ambigue che da più parti vorrebbero darci a credere che l'errore non è più errore ma è solo una verità meno piena è diciamo il trionfo di quello che Benedetto XVI aveva proposto nel nel dibattito comune come il trionfo del relativismo noi ricordiamoci quando Benedetto XVI cardinale Ratzinger prefetto della sagra dottrina della chiesa della fede facendo le essequie a San Giovanni Paolo II e poi dopo celebrando la messa prima del conclave proprio fece fece fare il suo ingresso denunciò pubblicamente questo pericolo del relativismo no chissà poi dopo la storia ci dirà che è un errore in cui questo del relativismo è un errore che poi nella prassi nelle sue scelte nei modi delle sue scelte in qualche modo no anche lui ne è diventato parte ma questo no lo affronteranno i teologi gli storici eccetera però noi dobbiamo fare attenzione proprio perché in questo tempo proprio partendo da questo principio no sembrano sembra che ci venga propinata una una confusione che addirittura si fa anche scandalo in molti fedeli che è proprio quella di non riconoscere più la verità ma rendere una verità inquinata dalla menzogna sicché tutto diventa alla fine relativo nessuno ha più la verità e qualunque verità diventa semplicemente una banale opinione non c'è più di fatto un magistero autorevole fatto anche con autorità che stabilisca la netta distinzione tra bene e male tra peccato e grazia tra atti moralmente giusti e atti non giusti tra male intrinsecamente male e malvagio e bene quindi tutto questo fa parte appunto della perversione della verità che è stata denunciata da San Pio X nella Paschendi ad opera proprio dei neomodernisti e allora vedete riprendendo il nostro tema purtroppo da più parti anche con insistenza con il pretesto di un presunto dialogo che poi nel Vangelo non troviamo mai espresso il dialogo è un concetto illuminista si obbliga a considerare molto positivamente l'interlocutore insistendo nel dire che vi è del bene anche nelle altre religioni dal momento che il bene non può venire da Dio ecco ne fanno conseguire che Dio agisce anche nelle altre religioni ma è vero questo sofisma cioè è vero che nelle altre religioni c'è un bene perché nel momento in cui il bene non può venire che da Dio ne fanno conseguire che Dio agisce anche nelle altre religioni perché le altre religioni esprimono in qualche modo un qualche bene però qua noi abbiamo un errore un errore sostanziale molto forte e dobbiamo fare molta attenzione perché questo sofisma è un sofisma sbagliato non è vero perché perché questo sofisma che è il pensare dei modernisti non tiene conto della distinzione tra un ordine naturale e un ordine soprannaturale non tiene in conto che c'è un bene di ordine naturale e un bene di ordine soprannaturale non tenere conto tutto questo e restare a un bene naturale e non a un bene soprannaturale e confondere i due livelli di bene ecco che rientriamo in un neopaganesimo no? è chiaro che quando si parla dell'agire di Dio in una religione si intende un'opera di salvezza cioè l'opera di Dio che salva con la sua grazia la sua grazia soprannaturale invece quando si parla del bene che è presente nelle altre religioni noi non dobbiamo riferirlo all'opera di salvezza che è soltanto operata nella Chiesa Cattolica il bene che è presente nelle altre religioni e qua io inserisco anche no? diciamo quel possibile bene che viene fuori anche dagli eretici cristiani quindi ortodossi o protestanti le chiese ortodosse e protestanti chiese separate da Roma e i protestanti questo bene non è un bene di ordine di grazia è un bene soltanto naturale il loro Dio agisce in quanto creatore ovvio che Dio come creatore agisce in tutti però agisce come colui che dà l'essere ad ogni cosa ma non agisce in quanto salvatore quindi si supera o si tenta di superare la distinzione tra l'ordine della grazia e l'ordine naturale quest'opera se dovesse andare in porto ad opera appunto dei neomodernisti il risultato che si ha sono i frutti disastrosi di cui faranno esperienze soprattutto le persone più semplici frutti disastrosi che generano ambiguità e generano confusione quella stessa che fa pensare appunto che in fondo qualunque religione può ottenere i più grandi beni di Dio questo diventa un inganno enorme e grottesco quindi c'è un abisso di differenza tra la preghiera cristiana è la preghiera di chi cristiano non è tutti gli uomini pregano ma non tutta la preghiera è vera buona e giusta solo la preghiera cristiana è una preghiera vera buona e giusta proprio perché assume quelle caratteristiche che sono proprie dell'incontro perché è comunicazione perché è dialogo con Dio è relazione spirituale anche affettiva allora perché è importante per un cristiano la sua vita di preghiera e la sua vita di preghiera fa la differenza tra il suo stesso essere cristiano visto che la preghiera cristiana è comunicazione con Dio allora si ha che dalla esperienza che il cristiano fa nella preghiera il Cristo trasmesso dal Vangelo diventa il Signore nella propria vita è lo Spirito che dà carne ad ogni parola cioè che fa diventare ogni parola un fatto così come avvenuto con la incarnazione del Verbo di Dio la parola che si è fatta carne cioè è diventato un fatto un fatto accaduto nella storia e quindi è diventato storia è diventata una storia per la storia del mondo per la storia degli uomini per la storia di ogni singolo uomo che abita il mondo allora la preghiera cristiana è dialogo con Dio pertanto nel modo di dialogare con Dio si approfondiscono quelli che sono i due misteri che appartengono a Dio e che mettono dinanzi a diverse prospettive e angolature da osservare meditare che sono di fatto il modo per contemplare il Dio cristiano quindi i due misteri che appartengono a Dio sono la sua unità e trinità e l'incarnazione passione morta risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo e infine la preghiera cristiana è vera relazione anche affettiva con Dio è l'esperienza di quella preghiera che assume anche le forme che noi diciamo devozionali forme che se guidate con saggezza sono il mezzo utile per cogliere la fede dei più semplici ed è proprio questo aspetto interessantissimo perché questa preghiera che fa emergere la semplicità del fedele in realtà fa emergere anche il sensum fidelium e descrive quella che è la realtà sociale culturale e affettiva del popolo di Dio questa terza dimensione della preghiera cristiana cioè il suo essere anche una esperienza affettiva con Dio fa investire alla teologia spirituale quindi di conseguenza anche al teologo spirituale quelle energie che sono proprie dell'ambito di questa esperienza umana che comprende il vasto campo delle affettività e allora non possiamo sottovalutare questo prezioso aspetto dell'esperienza umana quando si parla dell'esperienza affettiva dell'uomo a cosa si riferisce soprattutto un tempo come quello che stiamo vivendo dove la preghiera tende a diventare quasi tutta una forma affettiva questo diventa anche molto pericoloso allora quando la forma affettiva diventa seria cosa ci riferiamo noi ci riferiamo a quella ricerca che ogni uomo fa nel conseguire quella che è la sua primaria e fondamentale esigenza cioè quella di trovare la sua gioia di trovare la sua felicità il suo bene che si è trovato poi diventa anche il piacere è il percorso verso quella ricerca della gioia che invece il peccato ha pervertito sollecitando l'uomo a conseguire il contento del piacere nell'illusione di potere nel piacere possedere anche il bene la felicità la gioia che è promessa ma che non può mantenere e qui entriamo nell'infinito mondo dei contenti che fanno parte anche della vita della preghiera del cristiano infinito mondo che purtroppo invece di restare e di far restare il mezzo come mezzo tende a trasformare il mezzo nel fine quando questo accade allora abbiamo l'esperienza delle conseguenze di quella che è la preghiera immatura quella preghiera cioè che diventa soltanto sciocca incostante sentimentale quella preghiera che nel linguaggio di Giacomo è una preghiera incapace di ottenere qualche cosa da Dio proprio perché troppo ripiegata sui contenti desiderati dell'uomo allora c'è un discernimento da compiere che solitamente vedete è affidato ai pastori ai direttori spirituali proprio perché il vasto mondo dell'affettività umana è sottoposto a molte e differenti analisi da cui non può esimersi un pastore o un direttore spirituale e allora come uno psicologo indaca il mondo affettivo per ricostruire le dinamiche intrapsichiche che riguardano il nascere e lo sviluppo delle relazioni così il direttore spirituale come uno psicologo dello spirito va a indagare questo vasto campo delle affettività proprio perché l'incontro fra Dio e l'uomo avviene coinvolgendo l'uomo nella sua totalità di un essere che è aperto alla relazione è capace di relazionarsi allora garantire l'autenticità alla relazione che si ha con Dio equivale a far conseguire all'uomo il fine di quello che sta cercando cioè possedere la gioia e la gioia che l'uomo desidera non è una gioia qualunque ma è Dio stesso possedere Dio inteso proprio nel senso più nobile del termine cioè conseguire la partecipazione alla vita stessa di Dio è il senso della felicità realizzata dell'uomo quella felicità che Seneca auspicava al suo discepolo Lucilio e c'è una lettera meravigliosa che Seneca scrive a Lucilio la lettera 23 che esprime proprio una grande sapienza umana e ecco a conclusione di questo nostro secondo incontro questa lettera vorrei vorrei un passaggio di questa lettera proprio leggerla per farvi comprendere no a quale a quale grado di sapienza no l'uomo può arrivare Seneca non era no non era un cristiano un discepolo di Gesù però con l'utilizzo della sua mente no con l'attivare la sua ricerca è riuscito a cogliere delle verità che sono veramente alte elevate eh scrive Seneca caro Lucilio prima di tutto impara a godere già già questa già questa introduzione dovrebbe cioè è un'introduzione che può essere fatta all'uomo moderno all'uomo di oggi che effettivamente non sa godere va in cerca di ogni godimento ma non sa godere di niente impara a godere desidero che non ti manchi mai la gioia anzi desidero che ti nasca in casa ed essa nascerà purché essa sia dentro a te stesso tutte le altre forme di contentezza non riempiono il cuore sono esteriori vane a meno che tu non creda che uno sia allegro solo perché ride è lo spirito che deve essere allegro ed ergersi pieno di fiducia al di sopra di ogni evento credimi la vera gioia è austera pensi forse che qualcuno possa con volto gioviale e come dicono codesti sdolcinati spensierato disprezzare la morte aprire la porta alla povertà tenere a freno le passioni esercitarsi a sopportare il dolore chi medita su queste cose sente nell'intimo una gioia grande anche se poco appariscente allora vorrei che anche tu possedessi questa gioia ed essa non ti verrà mai meno una volta che ne avrai trovato la sorgente ecco anche se Seneca è contemporaneo di San Paolo infatti come San Paolo anche lui morirà condannato da Nerone però non sembra che Seneca abbia conosciuto il cristianesimo almeno così ci dicono ci dicono gli studiosi però Seneca è la dimostrazione di come ci si possa avvicinare paurosamente alla verità anche con il solo uso della ragione umana e come una volta avvicinato ad essa alla verità diventa anche molto facile coglierla ecco se Seneca avesse conosciuto il cristianesimo sarebbe stato un ottimo discepolo di Gesù Seneca dice vorrei che anche tu possedessi questa gioia essa non ti verrà mai meno una volta che ne avrai trovato la sorgente la sorgente della gioia che Seneca ignora è Dio parole del Salmo 42 come la cerva anela le sorgenti delle acque così l'anima mia anela a te o Dio quando l'uomo prega Dio coglie il senso della sua vita e gli nasce la gioia dentro la sua casa direbbe Seneca è il discorso di Gesù che l'evangelista Giovanni riporta proprio all'inizio del capitolo 15 del suo Vangelo quando dice io sono la vera vita il padre mio è il vignaiolo rimanete in me e io in voi e come il traccio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vita così anche voi se non rimanete in me io sono la vita e voi siete i tracci se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi chiedete quello che volete e vi sarà dato come il padre ha amato me così anch'io ho amato voi rimanete nel mio amore questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena la gioia allora piena nasce dentro l'uomo e coincide proprio con la presenza di Dio in lui Agostino sintetizza questa verità con una semplice espressione qui affecisti ad te e ti inquieto est cor nostrum donec requiescat in te tu ci hai fatti per te Signore e il nostro cuore è inquieto fin tanto che non riposerà in te e dunque di questo del riposo del cuore in Dio è il tema che tratteremo nell'ultimo nostro incontro di queste lezioni del chi prega si salva chi non prega si salva di teologia spirituale perché riposare in Cristo è proprio il senso che la preghiera cristiana ha come obiettivo che prega ha il dono da parte di Dio di riposarsi nel suo cuore di questo vedremo di parlare meglio nel prossimo incontro bene di cuore allora vi benedico vi mi auguro che non sia stato eccessivamente difficile anche se ho allungato i dieci minuti però ecco speriamo che tutto sia servito vi benedica Dio Unipotente il Padre Figlio e Spirito Santo bene arrivederci grazie a tutti